Ciao, questa è Frida. Tante persone, tutte diverse. Insieme a Diadora abbiamo deciso di raccontare i nostri valori su una serie di t-shirt. Cosa ci lega? L'unicità, la voglia di collaborare, ma soprattutto di divertirci. Come? A modo nostro. Perché quando sei te stesso puoi fare tutto. Grazie a tutti.